Attraverso boschi, di cascate bianche, sono scivolato, il campo ancora sveglio, potrò spiegare a tutti. Lo Spirito mi ha detto Che potrò morire, ma sarà il mio corpo, e non è importante, l'anima serena a lui andrà. Seguitemi fratelli, insieme cercheremo di fermare l'onda dei nostri nemici. Se non riusciremo, sarà perché così. Orra! 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 Grazie a tutti.